Zuckerberg voleva rivoluzionare il mondo con il nuovo concetto di metaverso, voleva creare una nuova tipologia di internet dove le persone potessero entrare in mondi virtuali sfruttando gli occhiali VR di Oculus, voleva creare uno spazio dove le persone potessero comunicare, lavorare e giocare all'interno di uffici, all'interno di negozi virtuali oppure al concerto, voleva creare inoltre uno spazio enorme fatto di diversi mondi interconnessi dove le persone potessero facilmente spostarsi da un ambiente a un altro. Zuckerberg ci credeva così tanto in quest'idea che nel 2021 decise di cambiare il nome della sua società in meta, infatti prima si chiamava Facebook. Per concretizzare questa nuova rivoluzione tecnologica decise di assumere ben 10.000 nuovi dipendenti, tutto sembrava andare per il verso giusto. Dopo l'annuncio di meta tante altre società decisero di salire a bordo di questa nave per poter cavalcare l'onda del nuovo trend. Una fra queste fu ad esempio Microsoft che decise di integrare il metaverso all'interno di Teams e di HoloLens. In realtà anche io scommettevo le mie carte e ci credevo in pieno su questo nuovo mondo virtuale che si chiama per appunto metaverso. Ma a distanza di un anno il metaverso di meta sembra che stia tramontando con maggiore intensità. Pensate che il volume di ricerca per la parola chiave metaverso è crollato in un solo anno di oltre l'80%. Questo pazzesco calo di interesse chiaramente ha avuto delle brutte ripercussioni sulle casse della società in quanto le ha completamente ribaltate. Sapete quanti soldi ha perso Meta dal 2020 ad oggi? Provate a indovinare, un miliardo? Due miliardi? Cinque miliardi? Assolutamente no, ha perso circa 30 miliardi di dollari. Comunque qualche giorno fa è uscita la trimestrale della Big Tech che in realtà non è stata poi così tanto male, eccetto un particolare di cui tra poco parleremo. Il fatturato di meta è aumentato del 3% rispetto allo scorso anno, a 28,64 miliardi di dollari. Mentre l'utile netto, nonostante si sia dimostrato in calo del 24% a 5,7 miliardi di dollari, ha comunque battuto le stime degli analisti. Inoltre, gli utenti attivi giornalieri di Facebook sono aumentati del 4%. Insomma, tutte queste buone notizie hanno fatto balzare verso le stelle il valore delle azioni, in quanto guardate un attimo che impennata si è registrata dopo il 26 aprile. Però in questo cielo di ottime notizie c'è una nube molto oscura che sta continuando a turbare gli animi degli investitori. Mi riferisco ovviamente a Reality Labs, che sarebbe la divisione di meta che si occupa per appunto del metaverso. Pensate che Reality Labs, nell'ultimo trimestre, ha riportato una perdita operativa di 3,99 miliardi di dollari, a fronte di un fatturato di appena 339 milioni. Guardate invece ora quest'altro grafico dove possiamo vedere tutte le varie entrate e le perdite operative della società, più in particolare di Reality Labs, che si occupa per appunto del metaverso, dal 2020 ad oggi. È pazzesco quanti soldi abbiano perso. Questo è un segnale che il concetto di mondi virtuali in realtà non sta conquistando con così tanta facilità il cuore delle persone. Ma quali sono le ragioni per cui il metaverso non sta avendo il successo che si pensava? Beh, sicuramente c'è il problema della bassa qualità. Della bassa qualità degli ambienti, degli avatar, dei mondi virtuali, che a differenza degli ultimi videogiochi di nuova generazione, che hanno delle grafiche pazzesche e sembra di giocare all'interno di un film, il mondo virtuale del metaverso è di una bassa qualità ed è poco attrattivo, è poco realistico. Inoltre il prezzo degli occhiali VR che ci trasportano all'interno del metaverso hanno dei prezzi esorbitanti. Pensate che il Quest Pro di meta costa circa 1500 dollari, ma chi è che se lo può permettere? Certo ce ne sono anche dei più economici, però non sono così pieni di funzionalità e così efficaci come magari può essere quello più costoso. Quindi questa tecnologia è interessante, però non è abbordabile, è per le tasche di pochi. Nonostante ciò, nonostante tutti questi insuccessi, Zuckerberg non molla la presa. E lo capisco benissimo, anche perché ha deciso di cambiare il logo e il nome della sua società nel 2021. Per inseguire non solo un sogno, ma anche una grande idea di business. Immaginatevi che figura farebbe se decidesse di cambiare per l'ennesima volta la traiettoria della sua nave. Perderebbe un sacco di credibilità, più credibilità di quanto non stia perdendo con Reality Labs, che si occupa del metaverso. Quindi il metaverso rimane tuttora una priorità per la società. Anche se però c'è da dire che negli ultimi tempi si sta concentrando sempre di più sull'intelligenza artificiale. Infatti Zuckerberg, per poter smorzare queste ingenti perdite, ha cominciato a inseguire un altro trend del momento, ovvero l'intelligenza artificiale che ormai è sulla bocca di tutti. Sto parlando in particolare di chat GPT. Dopo Microsoft e Google, anche Meta sta cominciando a lavorare al suo chatbot. Infatti vorrebbe costruire una specie di chat GPT all'interno di Messenger e di WhatsApp. Però il problema è che è molto indietro, ha cominciato i lavori un po' troppo tardi e rischia di rimanere indietro se non si dà una svegliata. Ma in realtà Meta non è la prima volta che crea dei chatbot con l'intelligenza artificiale. Ci aveva provato anche qualche anno fa lanciando Galactica e Blenderbot. Il punto è che entrambi si sono dimostrati fallimentari in quanto fornivano risposte fuorvianti. Pensate che Galactica diceva che il Colosseo fosse un centro commerciale mentre Blenderbot affermava che Zuckerberg fosse una persona inquietante e un grande manipolatore. Secondo me comunque in futuro Meta troverà la quadra per fare in modo che il suo metaverso abbia successo e possa portare profitti a peso d'oro. Quindi per il momento Mark sembra essere molto preso dall'intelligenza artificiale e purtroppo da quando questo trend ha preso sopravvento il metaverso è rimasto in una nube di polvere e rimasto nella penombra. Io comunque sono sicuro che in futuro Meta riuscirà a trovare una soluzione per rendere il suo metaverso profittevole e per permettere alla società di fare profitti a peso d'oro. Io trovo sinceramente un paragone con Elon Musk e SpaceX che prima di riuscire a lanciare con successo il suo razzo falconevi dovette ingoiare un sacco di fallimenti che gli fecero perdere montagne su montagne di soldi. Nonostante ciò però doveva pagare lo stesso i scienziati e ingegneri che dovevano continuamente fare nuovi esperimenti, nuovi test per trovare soluzioni e migliorare il razzo. Questo è ciò che sta succedendo anche con gli sviluppatori di meta che stanno lavorando intensamente, io spero, al metaverso della società per renderlo più attrattivo, per migliorarlo. È chiaro che ci saranno molti fallimenti in futuro però la cosa principale è che dopo ogni fallimento ci si rialzi e si migliori per rendere il prodotto ancora migliore di quanto non fosse prima. Comunque ragazzi voi cosa pensate? Meta riuscirà in futuro a fornirci una soluzione che sia finalmente di livello dignitosa per tutti noi che aspettiamo con tanta ansia questo metaverso che in realtà per il momento non sembra arrivare? Pensate che in futuro possa avere successo oppure no? Scrivetemelo qui sotto nei commenti perché mi fa sempre molto piacere leggere quello che pensate e i vostri pareri personali. Per oggi è tutto, grazie di cuore per aver visto fino alla fine questo video, ti saluto, ti mando un grande abbraccio e ci vediamo. Ciao e alla prossima!